Si chiama Jamie Welles, è un deputato conservatore inglese che sconvolge proprio il Regno Unito in quanto attraverso Twitter e social dell'uccellino va ad affermare di essere trans e di avere subito in tempi passati uno stupro e addirittura dei ricatti. L'uomo ha fatto outing di recente, ha spiegato di avere una disforia di genere, andando ad affermare che si è sentito così da quando era un bambino molto piccolo. L'uomo ha 37 anni di età, eletto nel 2019 per il collegio di Bridgeland, ha raccontato gli abusi purtroppo subiti, tra cui uno stupro da parte di un uomo conosciuto nel web, il gesto coraggioso però ha avuto un grande sostegno da parte del suo partito politico. Soprattutto Boris Johnson lo ha lodato per avere, diciamo così, diffuso una storia piuttosto intima e che sarà di grandissimo aiuto per tutti gli altri. Insomma, fa outing affermi di essere trans e di aver subito stupro e ricatti. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi e commentate, Jamie Wallis, questo è il nome e il cognome di quest'uomo. Ciao da Leandro, narrato italiano.